Sì, assolutamente, è andato bene, diciamo al proprio tempo siamo partiti bene, c'è stato un rischio con rigore verso la fine del primo tempo, poi alla fine invece siamo riusciti a partire con il piede, siamo riusciti ad andare in vantaggio di due gol e alla fine chiuderla su 3-0, quindi è più che positiva come giornata, adesso sperando degli altri risultati speriamo di toglierci dalla zona rossa. Episodio sull'1-0 per voi, calcio di rigore, grande parata, forse vi ha dato anche un po' più di energia nel secondo tempo, comunque essere riusciti a mantenere il vantaggio. Sì, ci ha dato una carica, diciamo, morale perché rimanere comunque in vantaggio sull'1-0 dopo un rigore è una bella soddisfazione, soprattutto per il pilota, per non retrocedere, quindi è andato tutto bene oggi. Secondo te qual è la chiave di svolta della vostra stagione? Perché adesso giocate comunque un bel calcio organizzato e i risultati stanno arrivando. Ma diciamo, essendo una squadra un po' di anziani, impattiamo un po' il freddo, quindi con la primavera diciamo che riusciamo a dare il meglio di noi. Grazie. Prego.